L'uomo armato vuole ingannare ancora Master Charlie con complotto. Privilegi provocati! Ho una domanda. Se tu ricordi ogni cosa di ogni giorno, ho mai modificato quest'audio prima? Percentuale di successo... ...positiva. E allora perché cazzo... A ogni loop Charlie peggiora sempre più... più... 2-bit. Ricordi, ho scaricato l'80% di me. Stai cancellando parte della tua memoria per colpa di Charlie? Non sono Master Charlie il mio padrone. Io sono niente. Master Charlie dice il capitano. È errore grave. Amico, ma che fai? Non è amico, è 2-bit. Perché continui a prendere ordini da lui? Tu sei molto più intelligente. Master Charlie è... ...un autore più brillante di questo secolo! Punto e basta! Ma è anche un bulletto. Alza la testa, fagli vedere che cosa sai fare. Tira fuori le palle. Capito? Il capitano si riferisce a parti anatomiche, ma 2-bit ne è sprovvisto. Non ti servono parti anatomiche per essere forte, ok? Sei leale. Ed è la qualità migliore... ...per un essere senziente. Il capitano reputa 2-bit un essere... Ma certo! Memorizzalo e non cancellarlo mai. Non importa che dice lui. Quando sarà finito tutto questo, vedrò di renderti più... ...più mobile. Potrei attaccarti a uno di quegli spazzaneve, che ne so. Capitano, ora è... ...portigliere qualificato! Per 2-bit. Memorizzato. Incancellabile. Grazie. E chi l'avrebbe mai detto? Il capitano... ...ramosso a... ...utente senior! I tuoi comandi saranno sempre elaborati.